bello bello una moto questo volante un g3 ok mettilo davanti gli occhi uno e due sei una moto adesso ok adesso accendi la moto come fa la moto boom 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 partiamo come va a destra bocca di boom 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 sinistra devi sempre tenere salita discesa destra sinistra salita mattina lo facciamo tutti lo facciamo tutti calma ma non ci vuole fare no la moto si tiene ma dai non vale ascolta la tua testa accendi la moto boom boom fai rumore fai rumore dai fai rumore destra sinistra salita 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 destra boom boom fermi bene davide ehi davide a seglia uno e due ehi il manubrio il manubrio com'è il manubrio come è il manubrio esatto pronto pronto davide si accendi la moto spesso lui non ci vuoi fare sai che uno così ha fatto una pareggi vero? ahahahah non c'è una passaggio ok stai qua stai qua è un passaggio questa invece è diversa ok mattina albi albi vai sentire no 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 Gian Maria e questo non sai Gian Maria non sai oppa ok moto è il moto GP adesso non ci sarò più io che faccio io il rumore faccio io destra quindi dovete spostarvi a destra faccio io faccio io discesa dovete abbassarvi faccio io salita dovete andare indietro ok gli altri devono sì perché loro devono aspettare in assoluto per qualsiasi motivo non dovete parlare né dire né fare né niente ok l'importante è attenzione però ho detto dito che bisogna di tempo allora pronti assediamo salita discesa piano destra mi raccomando mi raccomando sinistra discesa posanghiera non 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 consigには